Benvenuti, cari follower. Quindi, allarme urgentissimo. Temporali molto forti stanno arrivando sull'Italia con rischio di maltempo e alluvioni. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci prima premendo il pulsante Mi piace per questa clip e di condividere urgentemente questo avviso con quanti più italiani possibile per evitare il rischio di alluvioni come quella avvenuta lo scorso anno. In Emilia, Romagna, Grazie. Se il modello europeo emetterà l'allerta rosso scuro, a partire da venerdì 21 giugno 2024, si riverseranno sul nord Italia temporali molto forti. Questi temporali aumenteranno di intensità nel periodo serale e saranno accompagnati da forti fulmini con forti cadute di media e media intensità. Grandinate, di grandi dimensioni, con forte vento e maltempo. Questi temporali saranno molto pericolosi ed improvvisi e accompagnati dal rischio di allagamenti a causa delle grandi quantità di pioggia che cadranno in un breve periodo di tempo e in un'area molto ristretta. Potrebbero verificarsi forti alluvioni al nord. Secondo i dati preliminari a nostra disposizione, le zone interessate dal forte maltempo di venerdì sono tutte la Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli-Venezia, Giulia-Veneto, Emilia-Romagna. Questi temporali saranno più forti verso Valle d'Aosta, nord della Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna. Pertanto è fortemente richiesta la prudenza e cercheremo di comunicarvi eventuali altre novità importanti in seguito.